Metalli, composti clorurati e idrocarburi sono solo alcune delle sostanze inquinanti che dovranno essere bonificate dai 9 ettari di terreno dell'ex discariche 2A e 2B nel territorio comunale di Bussi sul Tirino. A bonificare entro 30 giorni dovrà essere l'Edison S.p.A., secondo quanto stabilito ieri dal Tarra di Pescara, che ha dato il via libera al procedimento di bonifica emesso dalla provincia di Pescara sotto la presidenza di Antonio Di Marco nei confronti di Edison. Con me c'è il sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta. Come è stata ricepita questa notizia qui in Comune? Sicuramente in modo positivo. Eravamo in attesa di questa sentenza da parte del Tarra che nella sostanza ha confermato quando prevista l'ordinanza della provincia. L'ordinanza della provincia, voglio ricordare, ha individuato il responsabile dell'inguinamento in Edison. È chiaro che Edison a questo punto deve fare le opere di prevenzione, di messa in sicurezza e successivamente di bonifica. Molto probabilmente la Edison farà ricorso al Consiglio di Stato? In pagino assolutamente di sì. Altrimenti dovrebbe, come dice l'ordinanza, iniziare le opere di bonifica che però, voglio ricordare, sono anche sotto il controllo da parte del Ministero. Questo è un sito di interesse nazionale e chi fa il progetto per la bonifica è il Ministero. Voglio ricordare che il progetto già è, addirittura è stata già fatta la gara, è stata giudicata ad un'impresa già a febbraio del 2018. La bonifica non è partita perché il Ministero ancora non firma il contratto con la ditta giudicatrice. Io credo che il Ministero stava aspettando questa sendenza e credo che a partire da questa sendenza il Ministero potrebbe avviare le bonifiche proprio attraverso la firma del contratto con l'impresa. Per quanto riguarda invece la situazione della discarica Tremonti sotto i piloni dell'autostrada, chi pagherà appunto la bonifica per la discarica Tremonti? Qual è il suo pronostico? Sulla discarica Tremonti sta pagando Edison, sulla 2B dovrà pagare Edison, però voglio ricordare che già a partire dal 2010 sono stati presi dei soldi dai fondi del terremoto circa 50 milioni di euro finalizzati alla bonifica e all'industrializzazione di queste aree, il che significa che lo Stato può, avendo già questi finanziamenti, iniziare la bonifica e poi farla a danno di chi ha inguinato, cioè di Edison. Grazie.